E abbiamo fatto un... Parlano da privati cittadini ma con un background importante nel sistema camerale di Pescara avendo amministrato l'ente dal 98 al 2009 con varie incariche per tempi diversi. L'incontro di oggi con la stampa per mettere nel mirino e contestare con fermezza le voci della possibile alienazione o locazione della sede storica dell'ente in via Conti di Ruvo e del Palabecci al porto turistico. L'ipotesi di mettere il reddito parte dei gioielli di famiglia dell'ente camerale Chieti Pescara nasce dalla recente ispezione ministeriale che ha chiesto di stilare un piano di razionalizzazione in modo da reperire le risorse necessarie per ricostruire l'immobile al foro boario nella zona industriale di Chietiscaro. Occorrerebbero 3 milioni, un'eventualità che ha fatto sobbalzare dalla sedia gli ex amministratori. Sentiamo Ezio Ardizzi, due mandati come presidente della Camera di Commercio di Pescara e Vittorio Di Carlo, ex vicepresidente. La Camera di Commercio di Pescara ha iniziato la sua attività con la costituzione della provincia di Pescara e tra l'altro ha avuto l'onore, il piacere, la considerazione del presidente della Repubblica per inaugurare la borsa merci. Non è pensabile che queste cose storiche, tra l'altro è bella, è una bella sede, ristrutturata, riammodernata, riqualificata e poi il pala congressi. Signore, questo è un gioiello anche di architettura, è fatto in un mese in occasione del gioco del Mediterraneo. Non ci pensassero, queste cose sono le nostre, non sono le loro. È un attorato appello, soprattutto affinché una giunta e un'assemblea camerale sostanzialmente scaduta, perché è scaduta a dicembre in attesa di rinnovo, non metta in campo dei provvedimenti che pregiudichino il futuro della nostra realtà, appunto essendo loro in prorogazio, in attesa di lasciassero tempo e spazio dei nuovi amministratori di poter decidere cosa fare. Per di più, mentre si discute della nuova Pescara, non si può pensare di chiudere la sede della Camera di Commercio a Pescara. Bisogna dire che il foro Boario attualmente è inagibile. Non mi voglio dilungare sul perché e sul per come è inagibile, ma è inagibile. L'ipotesi che è stata avanzata è quella di vendere i gioielli, diciamo così, delle Camere di Famiglia, delle Camere di Commercio, per realizzare una nuova struttura nel foro, all'interno del foro Boario. Noi pensiamo che la cosa più semplice sarebbe quella di tenersi gioielli di famiglia e magari alienare quello che non è un gioiello di famiglia, che può non essere utile e soprattutto attualmente non è agibile. Comunque il Presidente Strever in una nota ha detto non è in discussione la sede di Pescara? Il Presidente Strever mi fa piacere che dica una cosa del genere, però allora non si capisce come mai hanno pubblicato, stanno per pubblicare questa manifestazione di interesse su se si può alienare o meno, se c'è qualcuno interessato ad acquisire sia in affitto che in proprietà questi due immobili, perché se non è questo l'obiettivo basta non metterlo nella manifestazione di interesse. Ardizi in particolare ha ricordato come il Palabecci fosse all'epoca una sorta di rottame di ferro. Io mi ricordo che Luciano D'Alfonso e Alessandrini, che favorirono la demolizione, mi chiamarono, mi chiamarono, io arrivai di corsa e ci fu la prima bennata per cominciare a demolire anche quei capannoni che erano l'ortofrutticolo all'ingrosso di Pescara, che finalmente oggi sono a Cepagatti, una bellissima struttura che io ho realizzato a Cepagatti e che si chiama la Valle della Pescara. Il futuro non possiamo prevederlo, però che cosa perderebbe Pescara nel caso in cui venissero alienati questi beni? No, no, mi ho nepposto, se io non prendo in considerazione proprio, non esiste. La Chiamano di Commerci di Pescara... Un'assurdità. Non posso dire la parolaccia, però finisce... Ah, ah, toh! No, no, no. Non si tocca, guardate quanto è bella. E noi la diamo a chi? Chi dovrebbe venire poi qua dentro? Chi viene a fare interessi privati in una struttura pubblica? Quella è una struttura pubblica. Dino Lucente, infine, ed ex vicepresidente della Marina di Pescara per tre anni, si sofferma sul presunto impoverimento delle manifestazioni all'interno del porto turistico. Con questa ipotesi si continuerebbe a perdere, perché l'ex Giunta non ha più fatto manifestazioni tipo ex dieta mediterranea, poi chiamata mediterranea, che in tre giorni o in quattro giorni portava qui da 60.000 a 70.000 persone, quindi da fuori regione assolutamente. Poi l'oro d'Abruzzo, tutto l'artigianato che riguarda il lavoro che faccio io, tutto l'artigianato artistico, ricordiamo che in quei periodi nessun utente pagava lo stand, addirittura le gambe di commercio ci metteva il camion, il camioncino, gratuitamente andava a prendere le attrezzature dell'artigiano o del commerciante, le portava qui e gliele riportava. Adesso pensare che Pescara possa perdere, anche in funzione della storia della nuova Pescara, possa perdere Palabecci, possa perdere la sede storica di Pescara, è una cosa veramente assurda. Poi a fronte di chi? A fronte di cosa? C'è chi ha la sede Buario, che adesso ha dei problemi, dei grossi problemi, non li può risolvere con i soldoni di Pescara.